La Divina Commedia Capitolo 1 La Selva Oscura Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. I rami degli alberi si allungavano sopra di me nascondendo la luna. L'oscurità mi avvolgeva come ero arrivata in quella foresta e, soprattutto, come avrei fatto a ritrovare la strada di casa mia? Un improvviso scricchioglio di foglie sai che mi fece subbalzare? Forse c'era qualcun altro lì con me. Apri bene le orecchie e senti un ringhio basso e minaccioso. Dovevo andarmene. Camminai veloce senza pensare a dove mettevo i piedi. Dopo tanta strada vidi in oltananza una collina illuminata dal sole del mattino. Potevo salvarmi lassù? Era sicuramente meglio della foresta tenebrosa dove mi trovavo. Mi misi a correre per raggiungere la cima ma mi fermai subito. Avevo di nuovo sentito qualcosa. Un altro ringhio. Un latrato. Un rugito. Mi voltai. Da dietro una roccia spuntarono tre bestie feroci che mi sbarravano la strada. Non erano animali comuni. C'erano una lince della pelliccia maculata un leone con una criniera foltissima e una lupa magra e grigia che vi fissava facendo schioccare le mascelle. Fino a quel momento avevo visto belve simili solo nelle illustrazioni dei libri. Invece erano lì di fronte a me. Di certo non volevo diventare la loro cena. Scappai come se fessi le ali ai piedi e non mi voltai mai. Temevo di ritrovarmi davanti ai loro denti aguzzi. Correvo. 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 E basta. E poi mi accorsi che nella foresta era tornato il silenzio. La collina illuminata dal sole non si vedeva più. Intorno a me c'era solo il buio. Mi sentii perso. Disperato. Mi appoggiai a un tronco nodoso e ripresi fiato. Ma qualcosa mosse le foglie. secche e pochi passi da me. Stavo per scappare di nuovo quando notai che non era una belva questa volta. Era una figura umana. Aiuto! Cridai. Chiunque tu sia. Uomo o fantasma. Aiutami! La sagoma si fece abanti. Appena visibile nelle tenebre. Indossavo una tunica bianca come la luna. Aveva un bel viso. Severo e gentile allo stesso tempo. Anche se i suoi lineamenti erano sfocati. Non sono più un uomo. Rispose. Ma lo fui. Tanti anni fa. Da vivo. Era un poeta. Sono nata al tempo dell'antica Roma e nelle mie opere ho raccontato la storia della caduta della città di Troia e le avventure del grande eroe chiamato Enea. Non credevo alle mie orecchie. Avevo davanti il famoso Virgilio. L'autore dell'Eneide. Avevo letto il suo libro fino a impararlo a memoria. Per me era come un maestro. Se sei proprio quel Virgilio balbettai allora sei morto da più di mille anni eppure sei qui ora. Com'è possibile? Virgilio mi sorrise e disse sei finito molto lontano da casa tua Dante ma non temere Beatrice mi ha parlato tanto di te e mi ha mandato qui per salvarti. Sentendo pronunciare quel nome sussultai Beatrice era stato il tuo primo amore. L'avevo conosciuta da bambino e crescendo le avevo dedicato tutte le mie poesie più belle. Avevo continuato a scrivere di lei anche se nel frattempo la sua famiglia l'aveva obbligata a sposare un altro uomo. Purtroppo era morta giovanissima ma era sempre rimasta nel mio cuore. Beatrice mormorai commosso la conosci? L'hai vista? Virgilio sorrise a noi sì e anche tu la rivedrai. Che cosa devo fare? domandai subito. La lince il leone e la lupa divorano tutti i viadanti che passano nella foresta. Perciò dovrai seguire un'altra strada comunque pericolosa ma anche piena di avventure. Virgilio fece una pausa poi proseguì. Dovrai attraversare i tre regni dell'ortretomba. Ti guiderò prima nell'inferno tra i dannati poi a conoscere gli spiriti del purgatorio dove incontrerai Beatrice. sarà lei ad accompagnarti al paradiso. Alla fine tornerai a casa Dante e potrai raccontare il viaggio che nessuno ha mai fatto da vivo. La presenza di Virgilio e la speranza di rivedere la mia Beatrice mi riempirono di gioia. Sì quel viaggio incredibile non mi spaventava. Alzai la testa come i fiori piegati dal gelo della notte che illuminati dal sole si sollevano all'improvviso. Verrò con te Virgilio sarai la mia guida. Fine prima parte è